Musica Covid, in corso la fase 2 per la rete ospedaliera, il direttore generale dell'ASRE fa il punto della situazione. Tagli all'organici scolastici, il presidente Lorenzetti scrive una lettera alla ministra Azzolina. L'ufficio scolastico conferma licenziamento di 34 docenti, i sindacati, prospettive preoccupanti. Riparte il mercato settimanale a massa, tra incertezze e tante regole. Via anche al commercio ambulante ad Avenza, ma con un cambio di location. In base a quali criteri rimpiazzate il personale, CGL chiede un confronto urgente all'amministrazione di Casa Ascoli. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Antenna 3. In apertura il Covid, in corso la fase 2 per la rete ospedaliera dell'ASRE Toscana Nord-Ovest. Il direttore generale dell'ASRE, Maria Letizia Casani, fa un bilancio ed indica le prospettive per il futuro. In apertura, Lucrezia Maglio. È iniziata da alcuni giorni la fase 2 negli ospedali dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest. L'andamento epidemiologico sembra infatti favorevole e in tutti i presidi ospedalieri si stanno riducendo le aree prima dedicate al Covid-19, con l'obiettivo di arrivare quanto prima a concentrare tutta l'attività legata al coronavirus in specifiche strutture. Ad oggi abbiamo finalmente una drastica riduzione dei ricoveri, siamo a 29 ricoveri su un bacino di utenza di 1.290.000 abitanti, quindi insensibile riduzione, di cui solo 7 sono in terapia intensiva. È un risultato importante. In questi giorni stiamo attuando la descalation dei servizi offerti dalla rete ospedaliera. Quando i numeri scenderanno ancora, concentreremo in un unico ospedale tutta la casistica Covid e la sede è quella del vecchio ospedale di Massa Carrara, che è stato in questi mesi ristrutturato in tempi velocissimi. Ad oggi è attrezzato per la terapia intensiva, con 24 posti letto e con 24 posti di degenza. In questi mesi lavoreremo ulteriormente per costruire una sala operatoria per le emergenze e lo adotteremo della diagnostica necessaria portatile per curare questa patologia. Nel caso in cui si verificasse una non auspicabile ma ancora possibile ripresa dei contagi, gli ospedali, rassicura la dottoressa Casani, sono comunque pronti a riattivarsi in qualsiasi momento. Adesso l'Asle e tutto il personale ospedaliero è preparato e hanno attrezzato meglio tutte le strutture e le tecnologie, così da ampliare e ridurre le attività dedicate al Covid a seconda delle necessità. Ed ora il consueto bollettino. In Toscana sono 10.070 casi di positività al coronavirus, tre in più rispetto a ieri e sei nuovi decessi, tre uomini e tre donne con un'età media di 79,5 anni di cui uno in provincia. Nessun nuovo caso positivo a Massa Carrara, ma rimane tra le province di notifica con il tasso più alto con 536 casi per 100.000 abitanti. Come abbiamo detto poco fa, nella nostra provincia si è registrato un nuovo decesso. Ad aggiungersi alla lunga lista dei decessi per Covid-19 è il nome del dottor Cesare Landucci, noto medico di massa che da oltre due mesi stava combattendo contro il virus nel reparto di terapia intensiva. E' venuto a mancare questa mattina. Il dottor Landucci, 69 anni, era ricoverato all'ospedale Appuane, lo stesso ospedale dove aveva prestato il suo servizio fino alla pensione. Ma nonostante avesse raggiunto l'età pensionistica, ha continuato ad esercitare la professione, prendendosi cura dei suoi pazienti e probabilmente ha contratto il virus proprio nel corso di questa attività. Le sue condizioni erano apparse da subito gravi e per questo era stato necessario ricoverarlo in terapia intensiva. Nonostante le cure e la lunga degenza, seguita poi da un tampone negativo, Landucci non è riuscito a contrastare il grave danno polmonare causato dalla malattia che alla fine è stato fatale. Medico internista nel reparto di medicina dell'ospedale di massa, dal 2008 Landucci era divenuto responsabile dell'ultrosonografia del Dipartimento di Medicina Interna dell'azienda Usle 1 di Massa e Carrara. Ai familiari vanno le più sentite condoglianze da parte del direttore dell'ospedale Appuane, Giuliano Biselli, a nome di tutti i colleghi, dell'intera direzione dell'azienda Usle Toscana Nord-Ovest ed anche della redazione di Antenna 3. Oggi pomeriggio, intorno a mezzogiorno, un uomo di circa 70 anni è caduto da due metri all'esterno in via 20 Settembre a Carrara Venza, proprio dietro il supermercato dell'S Lunga. Per causa ancora da accertare, l'uomo ha riportato quali trauma ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Appuane. Sul posto sono intervenuti automediche e l'ambulanza della misericordia di Marina di Carrara. Ed ora ci occupiamo di scuola. Tagli agli organici scolastici. Il presidente Lorenzetti scrive alla ministra Zolina chiedendo a nome del tavolo provinciale il mantenimento dello stesso numero di docenti e classi per l'intera provincia. Sentiamo. La provincia di Massa Carrara è uno dei territori toscani più depressi e cui il Covid ha colpito più duramente. Non è accettabile la decurtazione di decine di posti nell'organico 2020-2021 con la conseguenza di avere classi pollaio intorno ai 30 studenti. Senza contare che il taglio degli organici causerebbe la soppressione di molte scuole di montagna. Lo ha scritto alla ministra dell'istruzione Lucia Zolina il presidente della provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti a nome e in veste di presidente del tavolo di lavoro provinciale per la programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica sulla base di quanto emerso nella riunione della scorsa settimana. Vista la situazione di particolare criticità dovuta al momento storico che ci troviamo ad affrontare il presidente Lorenzetti ha chiesto il mantenimento degli organici dello scorso anno in modo che a settembre studenti e docenti possano riprendere le attività didattiche in sicurezza. Nella lettera inviata anche alla sottosegretaria Anna Scani a direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Ernesto Perlecchia e alla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi il presidente ha ricordato che tutti i componenti del tavolo hanno denunciato con preoccupazione e allarme il pesante taglio degli organici docenti di ogni ordine e grado inizialmente pari a 44 posti e poi ridotto a 34 su un totale di 118 dell'intero territorio regionale. Il calo demografico che pure esiste non giustifica affatto una riduzione di queste proporzioni continua la lettera e significa comunque che sia continuata a ragionare come se la pandemia non ci fosse stata e come se i numeri degli alunni per classe non dovessero scendere per consentire il rientro nelle aule che resteranno quelle che sono. Lorenzetti poi ha ricordato come proprio per l'emergenza Covid-19 la ministra avesse pubblicamente assicurato che l'organico sarebbe rimasto invariato nonostante il calo della natalità. Una scelta lungimirante che avrebbe consentito di lavorare nell'ottica della riduzione del numero di alunni per classe dice Lorenzetti. Si prospetta invece una situazione insostenibile per il nostro territorio che comporterà dalle 20 alle 30 classi in meno a seconda del grado di istruzione che si andrà a colpire. Non è stata presa in considerazione la particolare situazione geografica né si è tenuto conto di aspetti essenziali come l'edilizia scolastica che in questa provincia ha strutture spesso inadeguate. Il rischio è che venga vanificato quanto fatto in questi anni sul dimensionamento scolastico nell'ambito del tavolo di lavoro conclude il presidente della provincia che ha intrapreso un'ampia razionalizzazione della rete scolastica territoriale che tiene conto anche dell'incidenza del calo delle nascite e che troverà il suo compimento con la fine dei lavori relativi all'edilizia scolastica recentemente finanziata da Codesto Ministero. Il corpo docenti di Massa Carrara subirà un drassico taglio infatti saranno 34 i docenti coinvolti per la provincia come annunciato l'ufficio scolastico regionale. I sindacati hanno illustrato un quadro preoccupante ci spiega meglio Rossella Brattini. Taglio drastico dei docenti in provincia di Massa Carrara l'ufficio scolastico e regionale ha confermato il coinvolgimento di 34 docenti per la provincia in un incontro avvenuto questa mattina con tutti i sindacati. I sindacati chiariscono di aver ottenuto un secondo momento di confronto prima della chiusura degli organici nella speranza che le proteste degli ultimi giorni da parte di sindacati scuole famiglie istituzioni locali e parlamentari trovino il dovuto ascolto da parte del Ministero e dell'URS Toscana. Le ipotesi proposte dai tecnici dell'UST ai dirigenti scolastici comprendono soppressione di nuove sezioni di scuola di infanzia rinuncia di alcune classi trasformazioni da classi d'inglese e potenziamento a classi irregolari rigetto di implementazione degli indirizzi musicali forte penalizzazione alle medie superiori delle richieste avanzate dall'Istituto Palma e Barsanti. Tuttavia secondo i sindacati tutte queste ipotesi si scontrano palesemente con dati di fatto non contestabili. Sezioni ingestibili nella scuola la scuola primaria subirebbe un radicale depauperamento delle risorse ottenute fino ad ora per irrobustire e qualificare l'offerta didattica la scuola secondaria di primo grado in più in una classe su due ospiterebbe più di 20 alunni. Noi denunciamo ancora una volta con forza che la ministra Azzolina che in questi giorni ripete ossessivamente che sta lavorando per riaprire a settembre le scuole in sicurezza sta invece concretamente determinando la costituzione di classi pollaio che non avranno a settembre alcuna possibilità di essere ospitate nelle aule delle nostre scuole hanno commentato i sindacati secondo i sindacati infatti in questo contesto a settembre con il ripartire dell'anno scolastico non sarà possibile garantire le condizioni minime di sicurezza agli alunni dobbiamo fare tutto il possibile per fermare questo scempio finché siamo in tempo hanno concluso i sindacati le organizzazioni sindacali continueranno a farsi carico di tutte le criticità segnalate dai lavoratori dai dirigenti scolastici e dagli stessi genitori in tutte le sedi opportune enti locali Ust Urs e Ministero e proprio sull'argomento intervengono anche i giovani democratici secondo loro l'ambiente scolastico avrebbe subito un cambiamento radicale in pochissimo tempo e nonostante il sistema fosse già in forte difficoltà non si sarebbero mai aspettati taglie sul personale la scuola uno dei cardeni della società è per i giovani democratici un punto di riferimento per molti dagli studenti che vi apprendono ai docenti che vi insegnano ma anche per le famiglie e proprio per questo il ruolo di docente ha un grosso peso secondo gli arancioni il taglio al personale significherebbe l'accorpamento di più classi quindi più alunni che non faciliterebbero l'introduzione delle misure di sicurezza giovani democratici di Massa Carrara sono intervenuti in merito proprio alla situazione dell'ambiente riparte il mercato settimanale a massa tra incertezze e tante regole i clienti sembrano aver rispettato tutte le misure di contingentamento e anche i commercianti si sono attenuti alle normative e stamattina c'erano proprio le nostre telecamere dopo oltre due mesi di chiusura oggi ha riaperto il mercato settimanale di Massa così come deciso dall'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Persiani venerdì sarà la volta di quello di Marina per la partaccia invece si dovrà attendere sino al 3 giugno nonostante qualche incertezza iniziale in molti questa mattina sono tornati a fare spese tra i banchi del mercato ma sempre con le giuste precauzioni seguendo le direttive sono state messe in atto misure di contingentamento degli accessi e i cittadini hanno seguito il regolamento per evitare la diffusione del contagio indossando la mascherina igienizzandosi le mani e indossando i guanti ogni volta che si avvicinavano ai banchi mantenendo il metro di distanza rispettando le file e le disposizioni di entrata ed uscita come nei negozi sembra che i massesi abbiano capito come comportarsi i commercianti dal canto loro hanno cercato di andare incontro alle esigenze dei clienti e si sono adattate alle misure anticontagio hanno stampato cartelle in italiano inglese francese e arabo così da far comprendere a tutti il comportamento da seguire si sono muniti di geli igienizzanti e guanti da fornire ai clienti hanno rispettato e fatto rispettare le distanze di sicurezza e hanno interdetto lo spazio laterale tra i banchi alla clientela attraverso l'installazione di apposite barriere sicuramente non è stato facile per loro procurarsi dispositivi di protezione e stare attenti affinché tutte le regole fossero rispettate ma a vedere dalle immagini sembra che tutto sia andato per il meglio insomma quello del mercato settimanale di oggi è stato un altro piccolo passo verso la normalità e la quotidianità di un tempo che ha dato una boccata d'ossigeno ai tanti commercianti che nel periodo di lockdown sono stati messi in ginocchio dalle restrizioni via anche al mercato del mercoledì di avvenza con le dovute restrizioni ma anche con un cambio di postazione ancora Lucrezia Maglio i mercati settimanali tornano a pieno regime con la presenza di tutti i banchi anche a Carrara lo ha stabilito l'amministrazione comunale con una delibera che dispone misure di sicurezza per il contenimento del coronavirus le prescrizioni sono rivolte tanto agli ambulanti quanto ai clienti spiega l'assessore al commercio Giovanni Macchiarini che poi entra nel merito dei contenuti della delibera solo con la collaborazione di tutti e rigoroso rispetto delle norme l'attività dei mercati potrà riprendere in sicurezza la prima novità è che il mercato di avvenza si sposta dalla zona vecchia della frazione alla Prada è una decisione che abbiamo preso di concerto con gli ambulanti perché nella zona ovest di avvenza gli spazi sono più ampi e permettono a tutti di gestire meglio le prescrizioni imposte dalla normativa afferma Macchiarini precisando che dunque già da domani i banchi del mercato del mercoledì saranno allestiti in zona la Prada i banchi saranno disposti lungo via Casola nel tratto tra piazza Berlinguer e via Villa Franca i mercati del giovedì e del lunedì invece manterranno la collocazione tradizionale un'altra novità importante riguarda le modalità con cui la clientela dovrà approcciarsi ai banchi questi saranno accorciati di un metro per consentire la creazione di una fascia di rispetto dotata di ingresso e di uscita e opportunamente delimitata a cui potranno accedere al massimo due persone alla volta che dovranno sempre mantenere la distanza di sicurezza tra loro le aree mercatari inoltre saranno munite di apposita cartellonistica con una sintesi delle principali norme di comportamento da seguire igienizzare le mani all'ingresso indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro confido che gli ambulanti e i clienti si attengano scrupolosamente alle indicazioni e ringrazio il personale del settore del commercio conclude Macchiarini grazie al lavoro svolto in questi giorni abbiamo messo altre attività nelle condizioni di ripartire questa mattina davanti all'ingresso del comune di massa è accaduto l'ennesimo episodio di violenza e prepotenza da parte di un signore che solitamente collabora con il comune eseguendo lavori di manutenzione in un parco pubblico di marina di massa a denunciare l'accaduto il presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti protagonista e parte lesa del fatto circa tre mesi fa racconta Benedetti lo stesso signore era entrato nel mio ufficio minacciandomi e offendendomi senza nessun valido motivo stamani pur di entrare in comune che attualmente è chiuso al pubblico non ha esitato a strattonare l'uscera di turno spalancando la porta d'ingresso ed entrando con prepotenza senza mascherina e senza farsi misurare la temperatura dopo aver assistito all'episodio il presidente del consiglio comunale ha richiesto l'intervento della polizia che ha fermato l'aggressore domani sarà denunciato dal sottoscritto e dalla dipendente comunale conclude Benedetti inoltre sarà necessario presentare anche una diffida di avvicinamento al comune annullando tutte le collaborazioni in corso gli investigatori hanno perquisito la sede dell'ente parco delle Alpi appuane così come l'abitazione del presidente del parco dice il presidente del gruppo regionale Penta Stellato Giacomo Giannarelli tra i tanti indagati oltre a diversi amministratori locali risulterebbe anche un imprenditore del marmo di massa noto per essere proprietario di cava romana all'interno del parco delle Alpi appuane dove viene estratto il pregiato marmo bianco P in questo contesto commenta il presidente del movimento 5 stelle occorre commissariare il parco delle appuane l'area è da troppi anni solo oggetto di sfruttamento ancora oggi la situazione sulle Alpi appuane sembra essere quella precedente all'approvazione definitiva dell'integrazione al piano paesaggistico regionale conclude che raffigura un vero strumento di tutela per i nostri paesaggi di nostri ambienti e sempre il parco delle Alpi appuane si appresta scrive il regolamento delle attività estrattive avvia una preventiva fase di consultazione per acquisire contributi da parte dei portatori di interessi come è noto il parco regionale dell'Alpi appuane sta predisponendo il nuovo piano integrato per il parco il cui avvia è stato approvato dalla giunta regionale toscana nell'ottobre dello scorso anno e con l'incontro poi del 3 febbraio presso la provincia di Massacarrara è stata avviata la fase di informazione e partecipazione del pubblico che ha visto una drastica interruzione a causa dell'emergenza covid-19 ma che riprenderà non appena possibile ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità e poi torniamo subito in studio perché l'informazione di Antena 3 continua hai un'attività e durante il lockdown attivato il servizio domicilio abbiamo una notizia per te Antena 3 ha creato una piattaforma gratuita per mettere in contatto le aziende della provincia che hanno attivato un servizio delivery e la cittadinanza registrati gratuitamente sul sito coseacasa.antenna3.tv e inizia a far conoscere i tuoi servizi per informazioni chiama il 348 910 8257 coseacasa di quel che c'è non manca niente ci sono mille cose da fare prima della festa per Zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet piante da sistemare muri da chinteggiare la parabola da montare già fatto e come? noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo resta solo la festa fatto anche questo ora manca solo Zia Pina l'hanno già noleggiato tutti possono rivolgersi a Italnolo MB Garden è l'emozione di vivere la natura la progettazione fotografica dei vostri spazi verdi dal parco con piante olivi secolari al piccolo giardino MB Garden è la serra un trionfo di fioriture primaverili piantine da orto aromatiche piante da frutta vasi terricci un'offerta selezionata completa e sempre nuova a prezzi incredibilmente bassi MB Garden via Aurelia Ovest 295 a massa dalla progettazione alla manutenzione del tuo verde con sopralluoghi e preventivi gratuiti offerte e news su Facebook qual è la tv locale più seguita in provincia? facile con oltre 35.000 telespettatori al giorno Antenna 3 è la televisione di casa tua chi altro? in base a quali criteri rimpiazzate il personale CGL Massacarrara si rivolge all'amministrazione di Casascoli per chiedere un confronto urgente sentiamo è passato oltre un anno da quando il consiglio di amministrazione di Casascoli ha intrattenuto l'unico confronto sindacale con la funzione pubblica di Massacarrara dopo che si è insediato in questo lasso di tempo mai un'informativa mai un riscontro neppure in tempo di coronavirus denuncia CGL Massacarrara eppure le problematiche di un anno fa sono rimaste tali dall'ultima assemblea con le nostre iscritte anzi pare che si siano accentuate tutta una serie di problematiche irrisolte che meritano di essere affrontate con serietà e puntualità spiega il sindacato la presidenza lo deve a lavoratori e lavoratrici che in questa fase pandemica hanno continuato ad operare con professionalità e spirito di dedizione al lavoro professionalità che è stata ripagata con il risultato non scontato di diffusione zero del contagio in struttura per questo motivo ma soprattutto per ottemperanza delle norme di legge e di contratto secondo la CGL Apuana sembrerebbe opportuno perlomeno essere informati su come ha intenzione di muoversi casa Ascoli rispetto al premio di risultato 2019 vorremmo capire se esiste un piano industriale se è volontà dell'amministrazione continuare a rimpiazzare personale in uscita con lavoratori in somministrazione scelti non si capisce in base a quali criteri di CCGL Massacarrara aumentando il precariato oppure se rientra nella volontà non manifesta di un progetto di selezione pubblica per il reclutamento del personale nel frattempo conclude il sindacato il personale attende ancora promesse progressioni orizzontali che non sembrano essere prese in considerazione da questa amministrazione ci auguriamo in modo serio costruttivo unitario di rialzare la testa con decreti governativi e iniezioni di liquidità per portare benefici a quella parte di popolazione che è rimasta a causa della pandemia senza alcun sostegno economico il nostro pensiero va indistintamente a tutte le vittime e alle loro famiglie in modo particolare a quegli anziani deceduti nelle RSA scrive in una nota Will pensionati riguardo all'emergenza sanitaria la fase 2 una volta ancora vogliamo ribadire che per come è strutturato oggi il nostro sistema sanitario è inefficace conclude il sindacato e soprattutto si scontra sui dettami costituzionali riguardanti i cittadini a favore di forme sanitarie privatistiche con la riapertura della ricicleria di via Berniere ad Avenza torna a pieno regime il servizio di raccolta rifiuti ingombranti di Nausica Spa la struttura sarà aperta tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì a partire da giovedì 28 maggio e a differenza del periodo pre-covid l'accesso per scaricare ingombranti e RAE cioè rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche avverrà solo su appuntamento da prenotare telefonicamente gli accessi si potranno prenotare già da oggi durante il periodo di chiusura la ricicleria è stata adeguata alle ultime normative di sicurezza anche per scongiolare il rischio di contagio da coronavirus per questo per accedere sarà necessario osservare alcuni importanti accorgimenti Nausica ricorda quindi che per soffrire del servizio è sufficiente contattare il numero 0585 644312 da lunedì al sabato dalle 8 alle 13 con l'entrata in vigore dell'atteso decreto rilancio il patronato in app ed il caff confartigianato imprese massacarrara sono operativi attraverso due sportelli dedicati per sopportare persone e famiglie con il conseguimento dei bonus sussidi ed agevolazioni introdotte dal richiamato decreto confartigianato fa sapere che oltre la riconferma ed ampliamento dell'indenità per artigiani commercianti liberi professionisti stagionali eccetera è stato introdotto il cosiddetto reddito di emergenza in sigla REM misura sostegno al reddito per supportare le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza covid-19 il beneficio economico del REM verificata l'esistenza dei requisiti può arrivare sino a 840 euro la domanda deve essere presentata all'Inps entro il termine perentorio del 30 giugno inoltre con il decreto rilancio colf badanti e babysitter con uno più contratti di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali hanno diritto per i mesi di aprile maggio 2020 ad una indenita mensile di 500 euro sono indette per giovedì 9 luglio alle 21 nella sede di confcommercio a palazzo sani a lucca le votazioni per l'elezione del nuovo presidente interprovinciale dell'associazione gli aspiranti candidati avranno tempo fino ad un massimo di 30 giorni prima della data delle elezioni per presentare ufficialmente la propria candidatura in forma scritta accompagnata dalla firma di almeno 100 soci effettivi in regola con i contributi associativi le candidature dovranno essere presentate ufficialmente entro martedì 9 giugno ed ora diamo uno sguardo insieme alle previsioni del tempo il meteo è presentato da Brico Center Massa il tuo vicino di fare previsioni per mercoledì 27 maggio prevalenza di sereno temperature in calo venti moderati e mare poco mosso giovedì 28 sereno poco nuvoloso temperature in rialzo venti deboli e mare quasi calmo tendenze per i giorni successivi tempo nuvoloso temperature stazionarie venti deboli e mare poco mosso per ulteriori informazioni visitare il sito www.meteapuane.it il meteo è stato presentato da Brico Center Massa il tuo vicino di fare via Marina Vecchia 5 ti aspettiamo non ci sono notizie dell'ultimo minuto quindi il nostro telegiornale termina qui grazie ovviamente a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e per aver scelto l'informazione di Antena 3 arrivederci grazie a tutti